Ciao ragazzi, sono Rosanna Coppacabana di Redi Zero sono qua con i ragazzi che hanno fatto la conversa nel film di Mariasi Contrata sentiamo che cosa ha dato a dire allora ragazzi, come lavorare con Mariasi Contrata è bellissimo è una persona meravigliosa, dolcissima, semplice dite quando che vuoi è stato come essere in famiglia è stata una bella esperienza un'esperienza fantastica che sicuramente ci ricorderemo sempre è che ci ha fatto crescere, tra l'altro e conoscere è stato bellissimo è stato bellissimo abbiamo conosciuto gente nuova era un film per il capitano Maria, hip hip URRA! ok, grazie ragazzi la migliore è lei seguiti grazie 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 a tutti